e beh ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono cosigny mer 572 e oggi siamo qui nel nuovissimo video oggi siamo con su protanov saluta ciao e che questo vuole fare provino si chiama dragon saluta ciao allora adesso andiamo no me l'ha tolto me l'ha tolto siamo andati in partita per questo video 15 like descrizione e iscrivetevi anche al canale di dragon che come ti chiami su youtube che ragazzi iscrivetevi ok io vado a foresta a foresta poi magari verso il bordo a provare è un buon posto a me porta fortuna e vai subito ti ricordi quella volta no no non ci doveri successivi da successività noi andiamo io io vado entro da qua se lo scambiozzo qui vabbè dove devo aspettavano è subito ok no perché vedo super mai ok sono morto facciamo una fiscina due pesci vabbè che facciamo ci mudiamo adesso o troppo presto no presto è presto iscriviti verso il canale mi sembra che ne hai sei a me ma tu vuoi iniziato vero oh prendi l'xp vabbè vai qua d'indo ma da che sti sono i giochi 7 ok però ti porto un po' di tempo perché all'inizio giocavo da un piccino laggioso hai il pack di questo eh no è proprio questo oh però con gabbul d'ore che la è bravo vai salì salì vai che lo kill che la fai oh è il b-shot vabbè una kill ho fatto due oh dei kill già siamo a dei kill quindi si mette le kill ah vabbè è cibilo prende le sono c'è qualcosa c'è qualcun altro no no mi sembra di no c'è comunque alla fine prendi quell'xp di far salire di livello ma a che livello stai? ah a livello 100 è 100 non posso più salire ok sento passi oh è sopra sì credo che sto sopra no allora con gabbè puoi farci ecco ci sono due sono due attenzione oh con gabbè ce la so gioca un po' la mira questo con un po' qualche volta vai oh la kill siamo a 4 kill vai bravo oh guarda che è bravo è bravo vai finicilo vai a piccone a piccone a piccone questo no non lo fai a piccone non lo fai a piccone questo meglio di no hai 6 kill dietro dietro no dove costruisci la scala bravo eccolo vai vai che ce la fai molecularlo ma che fa quanta kill ha ah 6 kill devi fare solo la top 15 ed è entrato oh guarda che se questo mi fa 10 e non fa la top 15 entra lo stesso vabbè lo super è ovvio è ovvio però mi devo vabbè bombi è forte devo dire la verità che sei forte allora fai l'edito più da più che c'è la scala fai scala pavimento muro scala ok no 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 dai è semplice no allora fatti pure un po' di materiale eh infatti ma ho 600 colpi di air 606 no mi dice 631 eh 631 eh io qui lo stavo guardando mi dice 631 quell'altro non mi avevo notato vediamo oh comunque c'è bravo vabbè semplice certe volte fai vedere il muro il muro editativo fai ma hai le macro tu no ti consiglio di metterle prima che si ti possono mettere le sue mette se vuoi te lo dico ah si grazie ok le macro eh si eh no vabbè basta che spingi un tasto ecco no sento forte questo o no noi dopo questa kill che se la fai ci mutiamo oh oh è bravo è bravo oh è bravo 8 kill lo scar vai prenditelo bravo eh ragazzi è bravo ditemi che cosa ne pensate nei commenti ma qua sono abbastanza bocca ma infatti hai ragione se qualche tuo amico vuole entrare nel tempo me lo dici va bene ok ma ma aspetta una domanda che io non faccio quasi mai ma come come hai cercato il mio canale voi in generale vedo il tutorial che tutorial cioè su come install la ripartita ah quello di guardato quel mio video quello ho fatto con le serie visualizzazioni ma quello là dell'errore o quello là come installare ma come installare ah ti è piaciuto facciamo 9 kill dai un vantaggio facciamo 9 kill ok a no ce l'ha fatta ha superato ha superato tutto vero vabbè comunque l'ha superato vabbè quindi ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo 15 like iscrizione ci diamo al prossimo video